Buongiorno a tutti, oggi siamo con Stephen Wenger, il direttore dello sviluppo dell'agroalimentare dei prodotti dell'IDM su Tirol. Già il nome presenta l'argomento, parleremo del marchio ombrello su Tirol, è un marchio che non solo noi lo conosciamo come immagine di territorio, immagine turistica, ma in realtà è un marchio che troviamo in varie declinazioni sui prodotti, sulle aziende di ospitalità, su alcuni progetti e quindi rappresenta per così dire un esempio vincente di quello che potrebbe essere la brandizzazione di un sistema al centro del quale ci sta sicuramente il lavoro imprenditoriale dell'uomo, ma intorno al quale c'è molto tanto e molto altro da vedere, da promuovere e da conoscere. Allora, partendo subito, perché non vorrei rubare troppo tempo a Stephen, vorrei lanciare una prima domanda. Allora, vent'anni di marchio su Tirol. Qual è il bilancio di un marchio ombrello? Quanto dura un marchio ombrello e poi richiede un restyling? E soprattutto quali sono, diciamo così, i vantaggi di riuscire a creare un'immagine, un brand che identifichi tutti questi valori? Allora, buongiorno a tutti gli aspettatori, buongiorno Olga, grazie per l'invito. Parto subito un brand, un progetto brand di questa identità, sicuramente molto ambizioso ed è partito con una semplice idea, che era quella di voler commercializzare la regione con un unico marchio. All'epoca i vertici ci hanno creduto molto e si sono buttati in queste discussioni, perché chiaramente non tutti erano d'accordo. C'erano diverse voci anche a favore, ma anche a sfavore, che non ci hanno creduto molto. Alla fine, dopo lunghe discussioni, ci si è riusciti a convincere tutti e a mettere insieme tutti questi interessi e si è partiti, sempre con questo spirito di mettersi sotto questo ombrello del marchio City Hall. Poi la vita media per un marchio non è facile a misurare, è quasi impossibile. Una cosa è certa, che nell'arco del tempo la vita media di un marchio è diminuita, perché serve sempre questa famosa alimentazione di un marchio per tenerlo vivo, per tenerlo interessante nel mercato, per portarlo avanti. Nell'arco degli anni la vita media di vari marchi è diminuita. Poi l'altra domanda era quella di come mettersi insieme sotto questo marchio ombrello, qual è il vantaggio per le singole aziende, qual è il vantaggio per i singoli attori. Chiaramente questo funziona solo e semplicemente se tutti gli attori vedono anche un vantaggio in questo marchio comune e con questo e seguendo anche questo marchio comune riescono a raggiungere meglio i loro propri obiettivi. Questo è fondamentale. Solo così ci si riesce a costruire sinergia tra i vari interlocutori, i vari marchi e questo è fondamentale perché altrimenti si perde tutto. Come si arriva? Con dei messaggi comuni, con dei posizionamenti comuni e con un posizionamento del marchio che dia spazio ai vari interessi dei singoli interlocutori. Fondamentale chiaramente è evitare sin dall'inizio delle posizioni che sono totalmente contrarie tra di loro perché chiaramente un marchio comune richiede e vive solo se certe posizioni chiave sono condivise e portate avanti. Hai toccato dei temi abbastanza importanti. Intanto l'ultimo tema mi piacerebbe definirlo, tu sei stato molto elegante, come possibile conflitto di interesse fra un marchio comune che ovviamente va a individuare un territorio ma anche delle caratteristiche diciamo così riconoscibili e comuni e un brand aziendale che è la seconda domanda che ti vorrei fare che ovviamente cerca sempre di evidenziare la propria individualità spesso non capendo nemmeno che stando all'interno di un sistema già qualificato la propria identità potrebbe guadagnare diciamo partire per così dire da un gradino in più anziché dover costruire una conoscenza del prodotto in maniera partendo da zero ecco questa individualità che è tipica dell'essere dell'uomo italiano e dell'imprenditore italiano soprattutto in alcuni settori dove c'è una forte riconoscibilità del marchio io penso per esempio al vino, nel vino la bottiglia è molto identificativa e il marchio dell'azienda ovviamente è molto identificativo più di un eventuale marchio ombrello perché è quello che poi fa riconoscere al consumatore quel specifico vino ecco l'equilibrio fra queste due diciamo queste due facce della stessa medaglia tu che hai una lunga esperienza essendo anche direttore non solo della promozione agroalimentare ma anche prodotti quindi singoli prodotti come lo vedi come si gioca diciamo in un'esperienza ventennale la ricetta magica sicuramente non esiste però la parola chiave e la giusta risposta a mio parere è quella della sinergia tra i singoli marchi e i singoli interlocutori fondamentale che nel marchio ombrello ci siano posizionati degli argomenti che sono importanti anche per i vari interlocutori per esempio noi posizioniamo il marchio Alto Adige con un paio di parole chiave per esempio la qualità, puntiamo molto sulla qualità questa è una tematica che puntano anche i singoli produttori che si ritrovano con questo argomento poi il territorio, la terra di provenienza quindi l'attuale, le eccellenze di questo territorio anche questo è una tematica che perfettamente può andare in sinergia con i vari produttori e i marchi dei vari produttori uguale come di recente anche l'argomento della sostenibilità che è un argomento molto discusso ma portato avanti anche in quest'ultimo periodo ripeto, la chiave è trovare argomenti comuni che sono condivisi che possano ritrovarsi sia nel marchio ombrello ma anche nei vari marchi dei diversi interlocutori e qui entriamo un po' più nella dinamica del tuo lavoro insomma tu sei direttore di una sezione di un ente che ha molte sezioni e che devo dire è molto organizzato io ho sbirciato all'interno del sito a parte avere un bellissimo sito ma siete veramente molto organizzati anche per aree, per specifiche sotto aree quindi è una professionalità direi importante quella dell'IDM e la mia domanda è una domanda diciamo così sono due domande in una quanto è importante una struttura diciamo una struttura ben organizzata interna e non in outsourcing rispetto diciamo ad un lavoro come questo che è un lavoro di relazioni con il territorio, con le aziende con le anche le associazioni rappresentative delle aziende penso ai consorsi di tutela ma penso anche alle associazioni sindacali più che non altre organizzazioni di imprenditori e quanto è importante proprio il riuscire a creare un percorso quello che vorrei capire è la struttura è un elemento e il lavoro di staff è un elemento fondamentale anche poi nella costruzione e nella promozione di questo è stata fondamentale ed è essenziale oppure nella tua esperienza ci sono delle parti che devono essere diciamo così interne alla struttura e altre che possono essere in outsourcing? Allora prima di tutto il team i vari membri del team ogni singolo collaboratore è fondamentale per portare avanti il progetto o i progetti quindi se il team ci lavora in modo concentrato ben organizzato con una certa passione questo è fondamentale per portare avanti i progetti se non c'è questo team alla fine non si porta avanti niente ma questo non vale solo per la nostra realtà ma vale per tutte le aziende quindi non racconto nulla di nuovo di conseguenza fondamentale far funzionare questo team chiaro noi siamo tante persone con diverse che provengono da diverse realtà quindi anche noi rispecchiamo anche un po' la realtà del nostro lavoro quotidiano quindi mettere insieme diversi interessi e lo viviamo anche al dentro della nostra struttura e questo lo ritengo un valore molto importante perché ci aiuta sempre a capire anche le realtà che operano al di fuori della IDM non siamo i classici amministratori che non hanno mai lavorato in un'azienda anzi gran parte delle nostre persone ci hanno già lavorato o in delle aziende o in delle organizzazioni che operano direttamente sul territorio per i vari stakeholder questo lo ritengo fondamentale e per rispondere alla tua domanda dico che mettendo in piedi un'organizzazione tipo la nostra il vantaggio è che crei veramente sinergie al dentro del team perché così ogni giorno tutte le persone ci lavorano sulle stesse tematiche che devono essere portate avanti non c'è questa spezzatura che in un'organizzazione fuori uno porta avanti la sua cosa poi l'altro un'altra e un terzo ancora un'altra ancora questo è il vantaggio di IDM ed è stato fondato proprio per questo per gestire il marchio su Tirola sapendo che ci sono così tanti interessi mettere insieme questo team che si focalizza su questo lavoro e il risultato è questo qui infatti è molto interessante perché la mia domanda potrebbe sembrare una domanda banale ma tu hai risposto perfettamente cogliendo anche le sfumature questo è un momento in cui in generale nel mondo aziende, associazioni, eccetera esternalizzano moltissimo lavoro però l'esternalizzazione spesso come dicevi tu fa perdere il coordinamento e i pezzi del lavoro per cui quello che sembra inizialmente un risparmio in termini se vogliamo economici o di altra natura diventa poi un boomerang perché manca poi al lavoro quella visione di insieme che hai tu nella tua area e che hanno i tuoi singoli collaboratori per quanto riguarda le esperienze che fanno quindi ti vedo come un esempio importante da questo punto di vista ecco Allora, proprio questo è fondamentale grazie per la tua domanda in questo senso bisogna sempre tarare molto bene quale servizio esternalizzi e quale tieni dentro ci sono tanti lavori che puoi esternalizzare perché ci sono anche degli esperti però devono essere sempre solo tasselli e a metterli insieme poi devi essersi tu dentro non io ma la nostra struttura che tiene la supervisione di tutto e che porti avanti sia le competenze ma anche la strategia condivisa con i nostri vertici questo è fondamentale e questo tarare molto bene quali sono le attività che possono essere esternalizzate e quali sono quelle che alla fine chiaramente sono quelle strategiche che devono essere concentrate in un'unica organizzazione e portate avanti gestite in un modo che valgono ancora domani e che il know-how non vada perso esattamente perché poi il tema attuale è l'esperienza l'esperienza positiva e negativa di ciò che si è fatto nel corso del tempo è quella che ti aiuta poi anche a tarare bene le cose e naturalmente questa te la dà soltanto il fatto di avere il pulso della situazione e di avere un'esperienza di lungo termine io ti ringrazio infinitamente perché abbiamo toccato brevemente dei temi nodali temi nodali perché peraltro ma questo sarà un tema su cui mi riservo di poterti risentire magari prossimamente adesso partirà anche uno diciamo così un lavoro di assemblamento fra i vari processi disciplinari sulla sostenibilità per arrivare ad uno standard unico nazionale quindi su questo mi piacerebbe capire poi il marchio su Tirol come lo declinerà sia visivamente sia nell'ambito del messaggio che darà perché probabilmente riuscirà a centrare con magari una parola o due parole che cosa vuol dire su Tirolo sostenibile quindi sono molto curiosa poi di chiederti queste cose allora io ti ringrazio ringrazio tutti e niente saluto tutti e ci sentiamo spero spero presto grazie per l'invito e buongiorno a tutti